Il gruppo dirigente nazionale regionale ha visto questo strano personaggio che arrivava non si capiva cosa volevo, volevo fare il leader, perché poi cercano subito di catalogarti secondo i giochetti eccetera eccetera, quindi no, non vuol fare niente, ma che vuole fare? Ah, è un più furbo degli altri, fa finta di non volerlo fare, però non lo vuole fare, è tutta una catalogazione di questo tipo, devo dire, è abbastanza penosa, ma la cosa fondamentale, come ha detto Sergio Staino, ieri straordinario, dice che quando arrivano questi, prima dicono, vabbè, ma non conto niente, lascialo fare, eccetera eccetera. Poi quando cominciano ad avere la sensazione che gli stia mordendo, gli stia arrivando la cosa, lo attaccano, poi dopo non si è per caso vinto, gli mettono tutto il carro dietro, questa è la descrizione del partito nei confronti di Renzi, non tanto miei, io sono rimasto diciamo alla prima e alla seconda fase. Ma la cosa divertente diciamo è il non lasciarsi ingaggiare intellettualmente, questo apre anche una questione sugli intellettuali in questo momento in Italia, diciamo, come dice lo splendido, come si chiama adesso, mi scappa il nome, poi mi viene in testa una figura che Martini ha lasciato a Milano in comando del suo istituto, dice sono diventati tutti opinionisti di intellettualità. Allora, in questi circoli emerge spesso la seguente cosa, ma di che parli Barca? Forse c'è pure ragione, ma tanto non c'è spazio, perché non è utile governare, c'è l'Europa, è lei che ci detta tutto, non ci sono più spazi per i governi nazionali, in particolare non c'è più spazio per i governi italiani, di che stai parlando? L'unica questione vera è l'Europa, questo è il convincimento diffuso nel 70% delle persone con cui tu interloquisci. Allora, qual è la mia risposta a questo? La risposta da cui conoscete bene, prima di tutto questo è totalmente falso, perché nonostante abbiamo compresso la spesa pubblica in Italia a dei livelli molto bassi, noi abbiamo dei margini miglioramento di efficienza a parità di vincoli comunitari che è enorme in tutti i campi, sia spostando fondi da alcune fonti di spesa ad altre, sia migliorando il funzionamento dell'amministrazione, come ho appena finito di dire, quindi questo non è vero, è un alibi, è un alibi, perché cerchi un alibi quando perdono e quindi questo alibi va demolito, non devo dirlo a voi perché lo sapete benissimo che è un alibi, però ve lo voglio comunicare perché poi avete queste interazioni interessanti con dei pezzi, i pezzi che tu hai nominato, abbiamo scoperto, poi alla fine sono quelli, se voi andate, chi di voi vuole vedere quelli che ho incontrato, entra nel mio web www.fabriziobarca.it, c'è una mappa d'Italia, puoi vedere tutti i circoli che ho incontrato e per ogni circolo, quasi tutti, alcuni non l'hanno mandato, ma quasi tutti, faccio fare un report alla fine di ogni incontro, anche voi lo farete, in cui c'è scritto cosa è uscito fuori, quindi potete vedere anche i circoli vivaci, ce ne sono di vivacissimi, alcuni forse, per aggiungere la lista, Sasser io la sentirei, ce la sentite, va bene, ci sta il circolo di gioiosa ionica, essere un circolo vivace a gioiosa ionica nella Locride rischia essere vivace. Allora, ce ne sono a Bagnara, ci sta un'esperienza interessante per il Bagnara, cioè il paese è pieno di esperienze straordinarie, spesso legato alla figura di un giovane, che francamente, te ne accorgi solo la terza volta che lo vedi se è Renziano o Cipatiano, spesso sono Renziani o Cipatiani, perché non importa, perché a loro non gli importa niente, alcuni sono terzisti, anzi quintisti come li chiamo io, non appartengono a nessuna filiera. Allora, questa è la prima risposta, la seconda risposta che io do a questa domanda del Vincolo Europeo, beh, certo in parte avete ragione, qual è il problema? Il problema è che il Partito Democratico ha abdicato, anche rispetto all'esperienza del Partito Comunista, dalla costruzione di una relazione permanente, di una strategia con i partiti. L'ultimo, ci sono stati due tentativi, uno era Comunismo, l'ultimo e non mi ricordo più se era DS o PDS, quello diciamo della terza via, D'Alema, Blair, Clinton, Firenze, tanto per intenderci cos'è, era DS. Ma non c'è più un esperienza, ed è una cosa che fa impressione, lo vedete voi, sono cose che conoscete, io me ne sono accorto da ministro, diciamo la debolezza anche del livello di gruppo parlamentare, quindi non c'è fra i partiti, non c'è a livello di gruppo europarlamentare, non hai la sensazione dell'esistenza di un confronto sulle questioni fondamentali e quindi l'Italia non riesce a far valere i suoi punti di vista. Io vi dico qual è il mio incipit e poi vi dico qualcosa su Europa, anche rispetto alla vostra pagina che ho letto, uso le vostre pagine. Tra i 15 principi di sinistra che ho provato a riscrivere nella mia memoria, ho scritto il secondo e questo. Le limitazioni di sovranità connesse al progresso del progetto dell'Unione Europea sono possibili, articolo 11, come sapete sulla Costituzione, se hanno luogo in condizioni di parità con gli altri stati e consentono di assicurare la pace e la giustizia, così recita l'articolo 11. Tali requisiti vanno garantiti, le limitazioni possono accrescersi a misura, questo sono io che scrivo, della crescita dei diritti e dei doveri che l'Unione Europea garantisce ai cittadini italiani e di ogni Stato membro in quanto cittadini europei. Io ritengo, sul piano giuridico e controverso, sul piano politico come è stato detto da insigne costituzionalista che posso dirlo, che noi siamo in parziale violazione dell'articolo 11 della Costituzione Unitaria in questo momento, perché voi sapete perfettamente che a noi è stato consentito di realizzare l'Unione Monetaria, cioè di cedere i poteri di monora del tasso di cambio e di controllo e di riacquisto del debito pubblico e di controllo del tasso di interesse, in nome di quella, dalla Corte Costituzionale, in nome di una lettura estensiva di un articolo della Costituzione che come sapete era stato scritto per le Nazioni Unite, dove giustizia non stava per giustizia, articolo 3 della Costituzione italiana, pari opportunità, ma giustizia nel senso di giustizia internazionale, principi delle Nazioni Unite. Oggi, mentre possiamo dire che ancora oggi che l'Unione Monetaria e l'Unione Europea concorre all'aumento della pace, non è più vero che concorra all'aumento della giustizia, perché dall'appartenenza all'Unione Europea sta derivando in Italia un peggioramento delle condizioni di giustizia e una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, è un dato di fatto. Quando viene tagliato il fondo per l'assistenza domicilare integrata agli anziani e all'infanzia in Italia, come è stato tagliato dal governo Berlusconi e non ripristinato né dal nostro governo né dall'attuale governo, noi stiamo peggiorando per eseguire degli accordi internazionali, degli accordi con l'Europa. Accordo internazionale, ho detto sì, perché cosa è successo con l'Unione Monetaria? Lo sapete meglio di me cosa è successo? È un'Unione sospesa, insostenibile. L'Unione Monetaria oggi è non sostenibile, è stata costruita per essere insostenibile, da chi l'ha disegnata, immaginandosi che a essa seguisse che era tanto insostenibile che la politica se ne sarebbe resa conto e non potuto realizzare un'integrazione economica, un'integrazione politica e un'integrazione bancaria. Questo non sta avvenendo. Dato che non avviene, quello che avrebbe dovuto essere il potere discrezionale di un nuovo tesoro e di un nuovo Consiglio europeo con poteri, cioè di un tesoro e di un bilancio, oggi è stato risolto con gli accordi di Maastricht, perché sono un contratto e che rappresentano la forma più esasperata dell'errore di contrattualizzazione del post liberismo, che noi abbiamo scritto quella che è nota come una coglionata in quel documento, come l'ha chiamata, non termina appena meno volgare l'ex Presidente della Commissione europea. Quella cosa costringe i Paesi a delle politiche che non hanno senso sulla terra e che stanno danneggiando i cittadini. Se noi non capiamo questo e se non da sinistra non prendiamo noi in mano questa cosa, la diciamo e diciamo andare avanti, la prende qualcun altro e dice andiamo indietro, punto, è di una semplicità lampante e noi non possiamo accettare che nelle prossime elezioni europee non possiamo andare in giro a dire che va bene questa Europa, dobbiamo essere a dire a noi che va male, che non è sostenibile, che viola o rischia di violare l'articolo 11 della Costituzione e che quindi bisogna andare avanti, perché andare indietro vorrebbe dire a mettere a repentaglio la pace e peggiorare ugualmente la giustizia a questo tal Paese eccetera eccetera. Questo ragionamento politico è di un'enorme importanza nelle prossime settimane, ma rispetto a questo ragionamento su cui non si esercita mobilitazione cognitiva, perché è tema totalmente non discusso all'interno del Partito Democratico, totalmente non discusso all'interno del Partito, ma nei circoli territoriali si, che cosa bisogna fare e mi ha zitto, il che cosa fare diventa importantissimo, perché dice ma Barca come mette insieme, adesso ci parla di cosa bisogna fare dopo domani, prima ci ha parlato del futuro, allora è evidente che noi apparteniamo a quello che rimane di 3-4 partiti italiani, la parte migliore di 3-4 partiti italiani, Partito Socialista, Partito Comunista, Partito Democraziano, Partito Repubblicano, ce lo voglio mettere, Partito d'Azione perché la componente liberale è importante in questa cosa, abbiamo preso il meglio che c'era nei partiti diciamo costituzionali ed è evidente che quei partiti sapevano conciliare una costruzione di una visione di lungo periodo e il presidio del presente, questa è la forza di avere il Partito Democratico oggi, affrontare la discussione sul lungo e intervenire sull'immediato visto che tra l'altro siamo al governo e su questo punto vi segnalo che su questo punto può realizzarsi anche una convergenza nel campo largo della sinistra, cioè quella convergenza frettolosamente ricercata con Selle nella scorsa strategia elettorale sotto il titolo ambiguissimo di bene comune, perché nessuno aveva idea di cosa era, si è trovato un cappello che potesse far finta di andare bene per tutti, quindi proprio una delle cose terribili sul piano politico, si può trovare invece sull'Europa e come dice Airaudo, straordinario figura diciamo di capo operaio che è indipendente di Selle in questo momento, che ha scritto una bellissima lettera e dice che il campo largo della sinistra si trova sull'Europa, guardate chi è che parla d'Europa, Airaudo, e su cento luoghi del territorio nazionale, ed è la mia tesi che oggi ci si muove lavorando su alcuni luoghi dove possiamo, non ce la facciamo a livello nazionale, ci vuole tempo per costruire una strategia nazionale, ma a livello di singoli luoghi, siano essi luoghi di fincantieri, luoghi dove c'è deprivazione sociale, luogo dove c'è una crisi industriale, è Europa, allora sull'Europa diventa, quindi il vostro documento è importantissimo, io lo uso e ci aggiungo due pezzetti e mi azzitto, perché non solo è importante per il PD, è importante per le relazioni europee ed è importante perché su quello si può realizzare una convergenza a sinistra importante, un po' più interessante di quella che ci propone Rodotà dopo domani, che uno poi gli dice, si è bravo Rodotà a fare la cosa per evitare che cambi la Costituzione, però francamente guardarsi in un bellico sempre tutto quanto il tempo è diventata una cosa che fa un po' un'impressione. Allora, voi dite una cosa importante, quattro cose, due le dite voi, due le aggiungo io, dite sviluppare chiare posizioni sui temi europei, l'avanzia nazionale, la discussione tra i partiti della famiglia socialista e progressista, questo secondo me è un punto fondamentale, questo va finalizzato evidentemente in questo momento al voto e quindi lo traduco in una cosa molto concreta, noi ci apprestiamo con ogni probabilità a votare un candidato unico per tutti i partiti, socialisti e progressisti, l'Italia è uno dei soci fondatori, siamo uno dei più grandi partiti che ci siano in Europa e noi dobbiamo condizionare questo a una posizione, si può scrivere secondo me in esattamente tre quarti di pagina e se la dovesse scrivere io scriverei tre cose, che l'impegno che chiediamo a questo signore è fatto di tre cose, l'impegno a battersi perché in tempi ragionevoli ci sia un ministro del tesoro dell'Europa, che poi per arrivare al ministro del tesoro intanto passi per la costituzione di un fondo gestito da Bruxelles che assomiglia a quello che hanno chiesto anche il sindacato tedesco, adesso non stiamo a fare qua i dettagli, l'obiettivo, un ministro del tesoro, senza un ministro del tesoro dell'Europa noi non, come dire, senza averlo, ritornare ad averlo con un numero di anni non andiamo a nessuna parte, secondo, una immediata, 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 so che è una battaglia in questo momento in Parlamento ma il PD non è il principale protagonista, una immediata battaglia per interpretare in maniera appropriata la previsione di flessibilità del patto di stabilità che consente il lancio di un grande piano di investimenti per la manutenzione del patrimonio naturale, culturale e artistico della nostra Europa. Questo è un obiettivo essenziale ma non è che va a posto come l'abbiamo posto fino adesso, va a posto davvero perché l'Europa si sta immarcescendo e lo sapete. Terzo obiettivo dove potremo trovare una colleganza rendere la vita non troppo difficile ai nostri amici inglesi che sono importanti e che vanno tenuti in partita, una e su cui voi potreste dare un contributo secondo me perché la cosa sia abbastanza popolista da essere appealing e abbastanza come dire seria da non essere popolista, una scecherata dura, secca alla burocrazia di questa città. Noi abbiamo bisogno di un radicale cambiamento del management della Commissione europea che ha subito una botta terribile con l'allargamento, questo lo sapete ma che già come dire ansimava anche prima, è iper proceduralista, è iper contrattualista, è iper ed è scarsissimamente attento ai processi di attuazione, ha fatto anche cose importanti ma è indispensabile che noi una cosa di questo genere la mettiamo in un trittico da chiedere, non la solita, l'ennesima riforma della Commissione, una cosa che voi chiedete gli occhi e poi siete molti di voi, siete giovani, la media di età di qua dentro è molto più bassa della media che io incontro generalmente per il PD in giro per l'Italia, che riattragga a questa città, a questa burocrazia il meglio della burocrazia, il meglio dei giovani di oggi e vi butto lì una piccolissima cosa di cui sono fissato che mette in gioco un modo un po' diverso quello che io chiamo le burocrazie nazionali con la doppia legittimità, cioè figure come la mia nella mia veste di amministratore ovviamente nella politica di coesione nel contrario è tante, sono persone che non sono più solo nazionali, ma non lo sono più nei loro modi di pensare e di ragionare, c'è una intera leva di amministratori pubblici, austriaci, tedeschi, inglesi, francesi che è venuta su in questi anni, che è cresciuta in una maniera che non è più una burocrazia nazionale, allora noi non la mettiamo a uso in maniera adeguata, lavora nella comitologia, ma dimenticate un attimo quello che dice, ci vuole uno sforzo di fantasia che voi potete forse avere meglio di me. La seconda cosa che voi dite, e basta, mi sembra molto carina, tu mi hai dato un chiarimento e mi hai ricordato giustamente il caso di De Verge, è l'inclusione di candidati provenienti da altri stati migliori dell'Unione Europea, mi sembra una cosa che voi scrivete da sottoscrivere con 22 righe, ma una cosa di rottura, fatta con intelligenza, giocando su personaggi probabilmente più freschi, diciamo, di quanto non fosse De Verge, allora, cioè non intelligenza, no che era un po' l'indipendente, era nella logica indipendente, no voglio dire che era nella logica indipendente di sinistra, cioè un'operazione che pesca nella gioventù, nei trentenni di questa Europa, sarebbe un'operazione molto intelligente e di nuovo secondo me potreste farvene portatori, io personalmente vi appoggio in ogni modo in cui la faceste. La terza e ultima cosa che voglio dirvi è questa, che invece non c'è, ma che c'è nell'attività che voi svolgete, cioè perché me l'hai già detto, poiché io penso che l'altra dimensione in cui il Partito Democratico può davvero cambiare nei prossimi, già da dopodomani, non è tanto nel ridisegno nazionale, poi semmai vi dico cosa a livello nazionale, secondo me possiamo chiedere veramente al congresso, ragionevolmente, ma è a livello di 100 luoghi dei territori, se riuscissimo, se capiterà, può darsi che succeda che nei prossimi 6-7 mesi si delinino queste, come avrebbe chiamato Rico Perlinguer, queste 20 case matte in giro per l'Italia dove ci sono delle punte avanzate di leadership locale, dei pezzi di Partito Democratico particolare. Ecco, se si delineano un investimento, assicurarsi che nel dibattito che nasce a Livorno, perché uno di questi luoghi diventa Livorno attorno alla vicenda della Solvay, che questi luoghi abbiano nella loro pancia la dimensione europea, attraverso un collegamento anche che voi potete rendere e favorire in termini non soltanto istituzionali, ma di partito, secondo me è una terza dimensione di impegno europeo che invece di partire dall'alto parte dal basso, a cui il nostro partito non è abituato e si trova quindi, non essendo abituato, a lanciare delle opzioni tipo su aiuti di Stato, su interventi, o a non sapere che ci sono degli spazi di intervento che invece potrebbero essere sfruttati e che voi conoscete o che alla loro attenzione possono essere portati. Bene, grazie davvero. Aprirei subito allora.